Si prova, si prova, Giulio tarterà solo un po', non preoccuparti, mi ha dato i copioni, ha detto di cominciare a studiare, è bello, lo so se dite, udite, udite, quest'anno si farà Natale in casa Tupiello e per giunta, tutto il nuovo le dare, è bello, è bello, è Luca Rie, Luca Rie, uccidate che so che dove, Luca Rie, ma è bellissima, è bellissima, dai, non riparro come si riesce, riesce o non riesce, sempre grande quello che esce, e chi non capisce bene, che succede da più da gassadere, non sapere, non sapere, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti